Al Civitelle l'Olimpia agnonese perde 2-3 contro il Giulianova nel recupero della nona giornata del girone d'andata. Match fallito per i Granata che ora devono scalare davvero una montagna altissima per provare ad agganciare la zona play-out. Il Giulianova sale a quota 13 e può sperare almeno negli spareggi per non retrocedere. Andiamo con la cronaca al sesto, il primo spunto del match è per i Granata, Abercon di prima per Sosa, progressione del numero 10, sinistro troppo schiacciato. Ottavo palla limite per Abercon, l'attaccante argentino si gira velocemente, conclusione a lato. Padroni di casa propositivi, il 4-3-3 impostato da Mister Di Rosa vede Di Lollo faro del centrocampo con Peic e Tankulic Mezzali. ventitresimo spunto di Sosa che taglia il campo e serve nello spazio Abercon, beccato però in offside. Giulianova con passato, gli ospiti si fanno vedere al ventiseiesimo piazzato dal limite di De Cerchio, Caputo allunga in corner. Al ventisettesimo spunto di Barlafante, il 10 Giuliese entra in area di rigore, contatto con Da Costa per Jacoponi di Pistoia. E' penalty dal dischetto, va Cesario che spiazza Caputo per l'1-0. Trentunesimo subito chance per il pareggio, piazzato di Di Lollo, palla con il contagiri per Abercon che in tuffo si divora il punto del pareggio. Calcio di punizione poi per i giallorossi al trentaseiesimo, Cesario cerca il bis, ottima conclusione deviata in corner dalla barriera. Al quarantunesimo l'ultima chance del primo tempo, protesta l'agnonese, cross di Da Costa, caso chiude di testa, rimpallo sul compagno di squadra Danna, senza tocco di braccio per il direttore di gara. Finisce il primo tempo nella ripresa, cambio per l'agnonese, fuori Da Costa, dentro Barbato, prima sostituzione per i locali. E al primo arriva subito il pareggio, il neo entrato Barbato, calcia dalla distanza, la sfera si impenna, Abercon prende posizione e in rovesciata, insacca alle spalle di Mora. Nel replay andiamo a vedere il bellissimo gesto tecnico dell'attaccante argentino. Il momento è propizio, al sesto, bellissima azione dei bianchi, cross di Alfarano, non arriva Sosa, sul secondo palo c'è Vespa, cross, deviazione con il braccio di Tipaldi, calcio di rigore. Molto ingenuo il classe 2003 giuliese, dal dischetto Sosa incrocia e porta avanti i suoi. Sembra la giornata giusta per l'Olimpia agnonese, ma corre subito a ripari Mister Bitetto, fuori il mediano Modic, al suo posto l'attaccante Paudice. La scelta si rivelerà decisiva, venticinquesimo gli abruzzesi, dopo aver accusato il colpo, si organizzano e trovano il pari. Fallo laterale, lungo, barlafante, scappa sulla destra, assist per Paudice che tiene botta e insacca alle spalle di Caputo il 2-2. Trentesimo e clamorosa l'occasione per l'Olimpia agnonese, lancio lungo, Abercon allunga di testa per Sosa, tutto solo l'attaccante argentino. Si invola verso la porta ospite, ma ci pensa troppo e si fa chiudere da Mora. Cambio anche per l'agnonese, entra a Maia al ritorno dopo l'esperienza nella passata stagione, al posto esattamente di Tankulic. Trentaseiesimo, la legge del calcio è spietata, De Cerchio si inserisce alle spalle dei mediani, assist comodo per Paudice che non sbaglia e con un tocco d'esterno fa 3-2. L'Olimpia agnonese abbassa la testa alla ricerca del pareggio, trentottesimo, azione concitata in area abruzzese, Sosa riesce a calciare senza imprimere forza. Quarantunesimo a testa bassa e granata, cross di Alfarano, testa di Sosa, sfera alta. Nel finale al quarantottesimo sul filo dei secondi, palla dentro, Mora esce male, Vespa al centro, Amaia incrocia. Il difensore caso del Giulianova salva sulla linea e dunque blinda il successo per il Giulianova. Dunque altra sconfitta per l'Olimpia agnonese. Domenica prossima al Civitelle arriva il Castelnuovo Vomano.